Afghanistan uccisa in un agguato l'inviata del Corriere della Sera, Maria Grazia Kutuli, morti anche altri tre reporter. 19 novembre 2001. La giornalista Maria Grazia Kutuli è uccisa in un attentato a Sarobi, sulla strada che da Jalalabad porta a Kabul. Corrispondente del Corriere della Sera, seguiva le operazioni militari successive alla caduta del regime dei talebani in Afghanistan. Maria Grazia Kutuli e gli altri tre giornalisti viaggiavano su due auto con i loro due interpreti. Un gruppo di uomini armati ne avrebbe fermati, fatti scendere dalle vetture e ordinato ai loro uccisi di andare via. Sarebbe stata un'uccisione a fretta. Bisogna spingersi a... Un gruppo di uomini armati, fatti scendere, 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 fatti sc